vediamo come sostituire la batteria questa dell'iphone 4s ho qui con me il kit di cacciaviti acquistato insieme alla batteria e c'è una differenza la prima cosa da sapere è che c'è una differenza tra la batteria del 4 e del 4s il connettore è diverso quindi se avete il 4 batteria del 4 se avete il 4s batteria del 4s insieme abbiamo questi due cacciaviti questi utensili in plastica per evitare di fare i contatti e di toccare cose che non dobbiamo cominciamo quello svitare le due vitine che ci sono qua dietro innanzitutto l'iphone va ovviamente spento una due le mettiamo da parte queste due viti sono uguali la parte di dietro la facciamo scorrere verso l'alto che dovrebbe scorrere di circa due millimetri vedete poi pian pianino senza sforzare troppo l'andiamo a sollevare la mettiamo da parte mi sono messo i guanti perché ho letto su internet siccome questa è la prima volta che lo faccio e che l'unto delle mani può andare ad interferire su diciamo sulle sulle parti elettroniche allora abbiamo queste due viti da svitare per rimuovere la batteria quindi stando molto attenti inizio con questa vediamo ok mi metto qui così faccio meglio perché c'è questo pin che deve che quando verrà rimontato deve essere nella esatta posizione in cui lo troviamo ve lo faccio vedere meglio in effetti aiuto non so quanto si vedrà c'è questo pin di fianco che deve che adesso una volta svitato questa vite verrà via libero non è connesso a niente e quando andiamo a rimontare lo dovrò mettere nello stesso nella stessa posizione questa è la vita di sopra poi con l'utensile di plastica questo qua magari comincio a sforzare appena dall'alto io tirerei via prima questo vedete che è venuto via lo metto qui per farvelo vedere ok lo lascio nella posizione in cui lo dovrò rimettere così poi non ci sbagliamo faccio leva con questo per togliere il connettore e il connettore adesso è sollevato non ci resta che sollevare la batteria pian pianino perché incollata la batteria sotto con un adesivo quindi pian pianino ok di qua è venuta via facciamo lo stesso lavoro di qua sarà un po più difficile ok la batteria originale è venuta via ok quindi questa non ci serve più prendiamo la batteria nuova e andiamo a posizionare nella sua sede la batteria di ricambio perfetto adesso stando attenti a quello che facciamo ci andiamo a inserire il suo connettore che forse andava messo prima quindi stacchiamo la batteria mettiamo a sto punto infiliamo prima il connettore non lo infiliamo tutto lo appoggiamo appena perché prima devo andare a reinserire questo pin cioè diciamo chiamiamolo pin poi non so come si chiama in realtà nella stessa posizione questa è la parte più difficile credo perché è talmente piccolo così direi prendo la vite mi aiuto sempre con lo strumentino di metallo e dovremmo esserci cerchiamo di non toccare le cose il pin è nella posizione originale stringo bene la vite vado a mettere l'altra guanti aiutano poco benissimo controllo che questo sia fisso il pin non si muove adesso posso andare a posizionare la batteria ecco fatto adesso io posso richiudere il telefono facendo esattamente il movimento contrario quindi vado a posizionare la back cover lo chiudo e vado a rimontare le viti anche qui mi aiuto prima con il cacciavite forse non lo faccio a mano vediamo no a mano non si riesce si è che si riesce scherzi vado a avvitare queste che sono un po' più lunghe di viti si riesce anche a mano sempre considerando che abbiamo i guanti e meno sensibilità nelle vite perfetto le viti sono strette l'iPhone è stato rimontato non so se questa batteria è carica provo ad accendere il telefono si accende perfetto allora qui vedo come avevo letto su internet prima di fare questa operazione della sostituzione della batteria che molto probabilmente non avrebbe cioè uno dei problemi che potevano nascere era che il segnale non veniva trovato ovvero il segnale del vostro operatore adesso vi faccio vedere come fare a risolvere questo problema allora facciamo un primo tentativo tra quelli che ho letto su internet andiamo in impostazioni generali scrolliamo verso il basso ripristina ripristina impostazioni di rete inserisci il codice tutte le impostazioni di rete le hanno eliminato perfetto ripristino abbiamo fatto un ripristino di rete e vediamo cosa dice il telefono perfetto noi abbiamo abbiamo quindi resettato le impostazioni di rete ci chiederà quindi il pin il codice di sblocco dell'iPhone come potete vedere il segnale adesso c'è la batteria è comunque funzionante l'iPhone funziona in maniera corretta e quindi il gioco l'abbiamo portato a casa quindi abbiamo sostituito la batteria dell'iPhone 4S un saluto